Alla fine non ce l'ha fatta, ha ceduto ai colpi della malattia, ma solo dopo aver combattuto come un leone, al suo fianco la famiglia, la moglie Gabriella e i compagni di partito. È venuto a mancare così giusto il tempo di veder nascere la nuova Assemblea regionale del Partito Democratico, Mimo Bafile, storico dirigente del PD, consigliere provinciale, poi regionale e vicepresidente del Consiglio regionale dal 1985 al 1990. Ma soprattutto, dicono dal PD, un maestro di vita. Una notizia che arriva a intristire l'atmosfera di festa e di vivacità registrata nelle ultime settimane con il rinnovo dell'Assemblea del Partito e l'elezione del nuovo segretario Michele Fina, avvenuta proprio sabato scorso. Mimo Bafile cercava di seguire anche dal suo letto di ospedale tutte le vicissitudini della città e della regione. Di questo partito, un po' disorientato dalle ultime elezioni nazionali e dalle disfatte a livello locale in tutta Italia. Mimo da oggi non c'è più, ma il suo sguardo rigoroso dovrà continuare a essere anche il nostro, dice il neo segretario regionale Michele Fina. Il suo desiderio per l'ultimo saluto è quello di un rito civile al Consiglio regionale, venerdì mattina alle 10. Mimo Bafile verrà cremato. Mimo era una mente viva e come mente viva non ha mai smesso di indagare sulla realtà del presente, di indagare, di interrogarsi, di chiedere, di organizzare il corso della sua vita. Lui giovanissimo entra in politica, fa il consigliere provinciale a Chiedi, poi fa il consigliere regionale due mandati, occupa lo scranno della vicepresidenza, poi viene all'Aquila, all'Aquila si impegna nelle politiche cittadini, fa il consigliere di coscrizione e poi quando sono diventato segretario DDS lo chiamai a fare il tesoriere. Mi ricordo che gli dissi io voglio una persona fidata accanto a me, una persona che mi aiuti, mi indirizzi, uno insomma dalle radici solide, mi guarda e dice e chi è? Mi rispose io tu, ti vuoi farci e mi rispose, ti vuoi far uccidere, era una battuta perché io sapevo il suo rigore e quel rigore è servito anche a me. Che cosa lascia la sua scomparsa, anzi la sua figura all'indomani tra l'altro del rinnovo dell'Assemblea regionale? Ma sai queste figure quando vanno via lasciano un vuoto, tutte, come l'ha lasciato Alvaro Iovanetti, lo lascia Mimmo, lo hanno lasciato altri, lasciano tanti ricordi e lasciano il rigore di un impegno, di ciò che era la politica, perché la politica per loro era passione civica, impegno serio, non era un posto su Facebook, era una battaglia quotidiana per i diritti di tutti, ecco cosa lascio questo insegnamento.